Il piacere del caffè costa diversamente da città a città. La Fipe ConfCommerce ha pubblicato una vera e propria mappa dei prezzi dei bar italiani. A sorpresa la Calabria è tra le regioni dove la tazzina di caffè costa di meno. Siamo la patria del caffè in tazzina. 5 milioni e mezzo di italiani fanno colazione al bar tutti i giorni. Stessa abitudine certo ma costi diversi. Se infatti a Catanzaro bastano 80 centesimi per un caffè, il più economico, a Bolzano per un espresso servono 1 euro e 14 centesimi, cifra record più alta. Lo confermano gli ultimi dati presentati dalla Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi sul Mondo del Caffè e del Cappuccino, una consuetudine che non conosce crisi nei ripensamenti. Nella classifica di capoluoghi di provincia con l'espresso più caro seguono Trento, dove la media è di 1 euro e 12, Bologna e Modena e per entrambe ci vogliono 1 euro e 11 centesimi. Per trovare tazzine di caffè sotto i 90 centesimi bisogna andare a sud, Bari, Cosenza, Messina, Napoli, Reggio Calabria e Siracusa. Un rito irrinunciabile l'espresso. I bar italiani ne servono in un anno 6 miliardi in tazza, un numero importante che si traduce in un volume d'affari di 6 miliardi e 600 milioni di euro.